buongiorno a tutti ragazzi bentornati nel canale cambiamo il sistema di riprese allora in questo video andremo a vedere come mettere insieme un telaio in questione del telaio del bagno deve essere 213 e mezzo di altezza per 68 e mezzo esterno di larghezza ora io i montanti li ho già tagliati a 213 e mezzo l'altra volta l'abbiamo messo insieme a 45 gradi stavolta vediamo un altro sistema a mezzo incastro quindi montanti sono già di misura ora dobbiamo andare a fare i tagli sui due montanti per raccogliere il traverso andiamo a vedere come fare questa lavorazione fare questa lavorazione ragazzi innanzitutto dobbiamo impostare la lama all'altezza della mia battuta perché noi giriamo il pezzo ok abbassiamo la lama e la portiamo a sfiorare ovviamente il mio telaio vedete deve sfiorare il mio telaio in modo e maniera che quando andrò a fare l'incastro non andrò a incidere il legno dobbiamo regolare ovviamente la guida parallela allo spessore totale del mio telaio perché questo qua il traverso dovrà andarsi a incastrare perfettamente sui due montanti quindi cosa faccio faccio alzo il pezzo lo poso sopra la lama e faccio in modo e maniera che il traverso rimanga perfettamente a filo della mia lama ok perché almeno sul montante riuscirò a fare l'incastro preciso dopo di che cosa farò prenderò i due montanti li poserò sulla mia guida parallela e inizierò a dare dei tagli e a fare lo scasso preciso che serve per incastrare il mio traverso sui miei due montanti andiamo a vedere accendiamo e andiamo a fare i due incastri nei due montanti e andiamo a fare i due montanti e andiamo a fare i due montanti ecco 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 Ahora e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tagliamo il traverso a 62 centimetri e mezzo. Intestiamolo. Intestiamolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A questo punto andiamo a fare due fori. Grazie a tutti. Abbiamo un goccio di Minavil. E andiamo a montare il dry. Questi dry poi andranno baccati bianchi. Grazie a tutti. 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 esterno e andiamo ad avvitarlo. Eccoci ragazzi, il nostro telaio è pronto, siamo riusciti a montarlo nel modo corretto, vedete? Diciamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo mischiato un po' le riprese vecchio stile alle riprese nuovo stile, quindi per questo video è tutto ragazzi, andiamo avanti, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi tutorial, un saluto a tutti da Diego, ciao!